no non la posso cambiare la maschera ciao ragazzi ciao gennaro e si però per il momento non è ancora entrato nessuno a no no si può cambiare quindi poi si può tornare poi nella nella cosa ragazzi dai ad andare online dai oggi si inizia con questo nuovo look aspettiamo che arrivi qualcuno online qualche bravo ragazzo pirotecnia coloriamo la tua festa siamo a trani in via cappuccini 77 e la veleva mileco però dai dai i primi i primi stanno arrivando i primi ciao ragazzi salutatemi pure non entrate in silenzio ciao vincenzo ciao nicola ciao anna dai 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 ci sono tanti i bei prodotti che vi aspettano abbiamo iniziato ciao gheitano abbiamo iniziato a caricare per questo capodanno 2019 naturalmente da pirotecnia solo solo top solo materia condividete ragazzi condividete mettete mi piace condividete e mettete mi piace alla pagina si si tra un po' i bruce brothers vabbè facciamo facciamo ancora un altro po' di cazzeggio poi partiamo facciamo i seri facciamo i seri i seri i seri ricordiamo a tutti la pagina instagram sempre pirotecnia trani ricordiamo a tutti la pagina del canale di youtube pirotecnia trani dove all'interno delle playlist troverete tutti i video per ogni tipologia di fuoco quali bengale fontane spettacoli pirotecnici dalla 16 alle 200 colpi spettacoli compound razzi questa oggi vedrete certi razzi che sono arrivati c'è solo noi ce l'abbiamo questa roba ciao barbara ciao mauro condividete condividete dai basta fare gli scemetti e passiamo alle cose serie finalmente allora dato che ce l'ho qui in mambrone ora ve lo faccio vedere subito subito così me lo levo davanti perché è veramente grande sto parlando del lion c'ho anche gli altri però naturalmente ve ne ho preso solo uno si vede abbastanza bene è un professionale da 100 lanci calibro 36 mm è uno spettacolo il video sta già caricato sul canale di youtube se andate su youtube pirotecnia trani trovate il canale guardate il calibro è veramente 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 uno spettacolo è qualcosa di unico signori non vendiamo aria pirotecnia noi vendiamo solo certezze pirotecnia trani coloriamo la tua festa per qualsiasi informazione potete scrivere qui sotto al video dopo se lo andate a rivedere a condividere oppure lo potete mi potete scrivere tranquillamente nella chat privata oppure ancora vi potete contattare su whatsapp al 347 9961661 levo questo mattone di 2 kg di massa netta 2 kg stiamo parlando di 2 kg di massa netta spettacolone categoria F2 è uno spettacolo vado avanti con la presentazione degli altri prodotti continuo 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 con le cassette e vi faccio vedere e prendo due alla volta così non perdiamo abbastanza tempo ciao francesco ciao martina allora questa qui è il furia 50 lanci 49 lanci tutto il materiale che vi sto presentando è tutto di categoria F2 quindi acquistabile da un pubblico avente la maggior età e senza portodarni senza alcun altro inghippo unica pigliata unica volata tutta colpi scuri quindi per chi ama fare dei bei finali con delle chiusure abbastanza numerose questo è uno spettacolo che consiglio tantissimo dal calibro 20 mm si passa a un calibro subito da 36 mm f2 venti di guerra 36 mm spacchi colorati assortiti che si alternano a spacchi colorati con dragonex chiusura tutta a scoppiettante anche questo è un bellissimo spettacolo il video lo trovate sempre sul canale di youtube pirotecnia trami ragazzi mettete mi piace e condividete il video siamo in pochi in questa diretta siamo in pochi dobbiamo crescere perché i prodotti bisogna farli farli conoscere alla gente questi prodotti altre due confezioni altre due torte nuvola spettacolo da 70 lanci calibro 20 mm tutta pioggia bianca striscione bianco e pioggia bianca a salice bello molto molto bello video sempre sul canale di pirotecnia trani su youtube lo trovate basta asserire articolo 70 f 001 e lo trovate tranquillamente oppure basta scrivere articolo nuvola e lo trovate tranquillamente altro spettacolo il terminator torna il terminator in categoria f2 non f3 quindi quarta categoria 70 lanci canna alta e visto provato testato negli spettacoli va benissimo ha una bella ritmica anche durata tra i 40 e 50 secondi lo consiglio per chi amante del fischio i 3 scatole per rimanere su spettacoli con il fischio ciao giuseppe un nuovo prodotto questo qui della perfetto calibro 27 mm e l'altezza è molto alta come cassa infatti il colpo è lungo 18 cm e ha una... comunque siete molto cornuti Nicola e Martina ciao Nicola e Marica ho fatto questa breve parentesi il colpo è lungo 18 cm e ha un effetto non fischio ma sirena è molto bello di categoria F2 doppia miccia di accensione quindi volendo si può collegare con qualche altro spettacolo e quindi l'effetto dicevo è sirena con spacco colorato e scoppiettante sempre un'altra cassa questa qui è della Jorg ed è la Wolf è semplicemente uno spettacolo di... spettacolo coreografico effetto lupo quindi con l'effetto che fa... in pratica per intenderci il video naturalmente lo trovate sempre sul canale di Pirotecnia Trani e poi sempre per rimanere sugli articoli a calibro grosso l'ultimo spettacolo che vi faccio vedere per oggi è il Genova della Art Fireworks sbruffo a salice bianco con punte blu e apertura a salice bianco quindi anche questo si può collegare tranquillamente categoria... non so se l'ho detto ma lo ripeto sempre categoria F2 calibro 27 mm perchè i lupi fanno così? perchè fanno così? e perchè i bambini fanno ooooh? ora passo a farvi vedere i razzi quest'anno abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei modelli di razzi e non venite a dire che Pirotecnia non è un negozio assortito è un bellissimo negozio partiamo col primo modello ahah, quelli che si giocano con quelli si gioca prima della mezzanotte mettendoli nella bottiglia della birra Peroni si carica fischio e scoppiettante sopra molto carini e molto economici anche ma tutti i prodotti di Pirotecnia sono economici chi l'ha detto che sono cari? pensa la gente questi sono molto belli per il divertimento pre mezzanotte io li consiglio poi andiamo in ordine ciao Francesco Santossola anche lui fa parte della diretta di Pirotecnia guarda bella gente oggi andiamo in ordine di grandezza razzo Apollo calibro 20 mm tre tipologie di effetto che si ripete per due volte quindi sei razzi confezione con all'interno la stecca dove va piantata ad esempio in un vaso o nel terreno ciao Savina all'interno di tutti i razzi che vi vado a presentare trovate lo stoppino di accensione non so se si nota anche se si confonde un po' con le pacchette però questo qui è lo stoppino ciao Antonio ciao Salvatore questo qui è lo stoppino di accensione mentre questa qui rossa che vedete è la stecca per la rampa di lancio dei razzi e questo è un calibro da 20 ciao Donato questo qui ha un calibro da 20 mm poi passiamo ai rocket plutone si sale di calibro confezione sempre da 6 pezzi questa volta però ciao Francesco questa volta però sono 6 razzi con 6 differenti effetti i video naturalmente di tutti questi prodotti li trovate sempre sul canale di Pirotecnia Trani canale di Youtube basta andare su Youtube e scrivere Pirotecnia Spazio Trani che a volte c'è chi scrive Pirotecnia Trani Pirotecnica a volte mi chiamano ancora pronto a parlare con Pirotecnica no Pirotecnia Pirotecnia e Pirotecnica senza la C finale ciao Gabriele e niente stavo dicendo dopo questo mio show sempre naturalmente se non sono io i rocket plutone calibro 36 mm quindi siamo saliti da un 20 mm a un 36 mm anche questi hanno la stecca rossa con la rampa di lancio e lo stoppino di accensione dopo si passa ai razzi urano questa volta la confezione scende a 5 pezzi calibro 40 mm ciao Sara calibro 40 mm video naturalmente lo trovate sempre sul canale di Youtube Pirotecnia Trani anche questi hanno la stecca con la rampa di lancio e lo stoppino per l'accensione senza che andate ogni volt con l'accellino, la sigaretta vi diamo pure lo stoppino quest'anno vi diamo lo stoppino poi dopo i 40 mm saliamo ai 50 mm di calibro i rocket ball oppure quest'anno chiamati razzo venere la grammatura è di 60 grammi a pezzo e ha tre tipologie non me le ricordo ora ve le dico questi li dovevamo testare questi giorni questi due ultimi pacchi che vi sto facendo vedere però purtroppo tutta l'Italia è vento e quindi automaticamente non si possono testare questi prodotti ma appena l'Italia torna nella sua bella quiete li testeremo questi razzi testeremo giusto la regia dice ehi la li testeremo e la gente che passa io la saluto però abbiamo tre tipologie tre effetti pioggia oro l'altra è oro con il verde tremolante e l'altro ancora è un crisantemo multicolore con centro cracker quindi un spacco colorato con il cracker in mezzo ciao Ale Micaela ubiom bellissimo questo nome ubiom e poi l'ultima confezione è formata da due pezzi e quindi più facile anche all'acquisto è il razzo Giove con palla da 65 mm la grammatura è di circa 70 grammi al razzo e l'effetto naturalmente no Antonio Danilo secondo grande il grande no secondo il grande no no niente petardoni petardoni per legge sono vietati e quindi mi dispiace vi dovete accontentare di Magnum o di qualsiasi altro prodotto che sia legale però io petardoni non li vendo non mi cercate petardoni perché non li vendo e niente quindi che dirvi ho iniziato la diretta col cappello da Bruce Brothers e vi saluto così vi raccomando condividete condividete e condividete mettete mi piace alla pagina di youtube mettete mi piace e iscrivetevi al canale di youtube che io vi vedo che io vi vedo ma tutto so battezzato che io ti vedo iscrivetevi alla pagina di youtube pirotecnia trani pirotecnia e pirotecnica senza la c finale trovate no 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 corrutano che è questo mi piace di più mettete è inutile questo è un negozio ci divertiamo tutti quanti è inutile non vedete a dire che da pirotecnia non ci si diverte pirotecnia trani via cappuccini 77 canale di instagram è sempre pirotecnica no non si vede più niente condividete questa diretta questa diretta andrà online rimarrà online naturalmente disponibile per qualsiasi domanda cavo vai cavo vai disponibile per qualsiasi domanda resto qui no mauro che cosa ero bello che capelli rossi no 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 assolutamente comunque la pirotecnia non si vende aria si vende solo qualità ottimo rapporto qualità prezzo solo da pirotecnia trani che altro mi devo dire alla prossima diretta dove presenteremo gli altri prodotti sempre un misto facciamo facciamo cassette la prossima volta massimo qualche fontana comunque vi aspetto mi raccomando condividete e lasciate i like sulla pagina e iscrivetevi al canale di youtube per rimanere aggiornati su tutte le novità ciao ragazzi alla prossima e mo come si spende la diretta qua alla fine ciao